Piena fiducia al presidente della Pagani Servizi che come società tra l'altro non è in discussione nonostante la situazione disastrosa ritrovata. La precedente amministrazione della Multiservizi ha lasciato debiti, attrezzature obsolete, contributi lavorativi non pagati e quanto raccontato dal presidente Franco Toscano e dal sindaco facente funzioni Anna Rosa Sessa nell'incontro convocato con la stampa alla quale è stato illustrato lo stato dell'arte trovato dalla nuova gestione nominata dall'amministrazione Gambino. Al 30 giugno è stata trovata una perdita di esercizio notevole a fronte della quale il neopresidente ha dovuto rimboccarsi le maniche per far risalire la china alla partecipata ed evitare il default. Ho trovato una situazione che è stata devastante, non mi era stata prospettata, si diceva non ti preoccupare vai a fare amministratore unico di un gioiellino, anche la Parmalat la chiamavano gioiellino invece ho trovato una perdita di esercizio, una perdita trimestrale contabile di 109 mila euro parliamo di una società capitalizzata per 10 mila euro. Ovviamente se dal punto di vista economico ti trovi un disavanzo di 110 mila euro si riflette anche sotto l'aspetto finanziario debiti in più per 110 mila euro, uscita in più per 110 mila euro che non essendoci l'entrata ha comportato un gravissimo affanno finanziario e che ancora oggi mi accompagna in questa avventura. Al di là degli aspetti amministrativi, è una rossa sesta, siamo amici fratelli da tanti anni non c'è stata nessuna pressione, è soltanto stabilire un'equità sociale tra tutti i dipendenti cosa che al momento non era raggiungibile per i motivi che stanno sull'audio, dunque inutile che ve li ripeto e siccome quello era un weekend in cui ero bersagliato già da un altro dipendente con attacchi su Facebook e uscivo da quel momento dalla caserma dei Carabinieri dove avevo denunciato l'altra persona incomincio a quest'altro e sono sbottato. L'unica cosa che mi dispiace è che Alberico Gambino ci possa essere innanzo male, però voglio dire non era uno sfogo pubblico, era uno sfogo privato che poi qualche, vabbè non mi fate dire come lo vorrei definire, qualche persona abbia utilizzato questa cosa penso che sia, comunque anticipo che tra poco vado dai Carabinieri a denunciare sia la diffusione di questo video e addirittura la pubblicazione su un blog, questa è la città dove si dà valore poi a certi personaggi che di valore non ne avrebbero. 8 settembre 2019, con entrambe le persone oggi c'è un rapporto lavorativo stupendo proprio la persona che avevo denunciato quel giorno oggi pende dalle mie labbra, mi stima e rende anche sul lavoro e anche l'altro. Io ho due obiettivi come amministratore unico della Pagani Servizi rendere quanto più vivibile la mia città e dare un futuro certo e concreto a quelli che io diciamo i miei ragazzi che sono i dipendenti della Pagani Servizi, che sono delle persone stupende, che mi vogliono bene e con cui ho stabilito un grande rapporto. Uno sfogo risalente all'8 settembre che non ha nessun tipo di risvolto perché è semplicemente uno sfogo purtroppo ancora una volta ci troviamo a fare i conti con una parte politica che utilizza modi e metodi strumentali e falsati una parte politica che ha usato in passato i complotti per sconfiggere l'avversario politico a noi questi modi e questi metodi non ci appartengono perché siamo abituati a guardare l'avversario politico in faccia e non a distruggerlo cercando di colpirlo alle spalle ma restiamo sereni, pronti però a difendere l'immagine dell'amministratore della Pagani Servizi e anche della nostra amministrazione tant'è vero che proprio stamattina il dottore Toscano procederà ad una denuncia contro chi ha pubblicato audio che sono privati perché pubblicare un audio privato su un social credo che abbia dei risvolti penali per chi lo ha fatto Denunciate dunque perdite di esercizio rinvenuti alla Pagani Servizi che addirittura si raddoppiano all'ASPA nonostante la città non abbia mai brillato per pulizia la società partecipata del comune che gestisce il servizio rifiuti non è stata in ogni caso messa in discussione anche per le posizioni verticistiche blindate dalla precedente amministrazione alla luce di tutto questo è stato chiesto, ha rimarcato il sindaco facente funzioni un maggiore impegno della pulizia della città il sindaco facente funzioni ha poi annunciato la pubblicazione di un report su tutto quello che è stato trovato a Palazzo San Carlo inadempienze gravi nel settore amministrativo, gare e permense scolastiche in alto mare perdite di oltre 110 mila euro alla Pagani Servizi che si raddoppiano all'ASPA debiti fuori bilancio mai pagati, entrate sovradimensionate fondi non versati ad agro solidale ma non finisce qui tutto verrà denunciato alle autorità competenti che dovranno indicare la strada da seguire ha concluso il sindaco facente funzioni grazie a tutti